Intanto le Olimpiadi sono una grande opportunità non solo per lo sport trentino, ma per tutto il sistema trentino, sia economico che culturale. Il CONI, il CONI Trentino farà di tutto affinché le Olimpiadi divengano davvero questo volano dal punto di vista sportivo, per incrementare tutta quella che è la sportività trentina, che ricordiamo siamo la provincia più sportiva d'Italia, ma anche perché diventi proprio uno scatto culturale diffuso, oltre che economico e tecnologico, per lasciare sul territorio una legacy importante per le future generazioni. Già lo sport ha un'evoluzione, come anche tutta la tecnologia e la società stessa, è impressionante, una velocità impressionante. già parlare adesso di come sarà lo sport 2026, a volte mi immagino qualcosa di diverso di quello che ci immaginiamo adesso. Dobbiamo essere al passo, dobbiamo essere pronti per cogliere questa opportunità.